Disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere. Questa sera volevo parlare con voi di Disability Studies. Che cosa sono e come ne sono venuta a conoscenza? Allora mi sono scontrata con i Disability Studies che non conoscevo la loro esistenza attraverso degli studi che sto facendo naturalmente riguardo l'autismo che sono degli studi che partono dall'idea, da una critica proprio da parte del mondo autistico cioè degli soggetti autistici rispetto a come vengono visti dai soggetti normali cioè da noi o quelli considerati neurotipici. Leggere appunto diversi temi, diversi appunti didattici, accademici di persone con autismo o Asperger che collabora con appunto con psicologi, con medici, con sociologi, con filosofi di questo tema mi ha portato a scoprire la realtà dei Disability Studies cioè di questi studi critici sul modello di visione della disabilità non solo all'interno delle epoche storiche ma anche all'interno dei contesti culturali è una critica proprio mossa alla società per come vengono gestiti i paradigmi i due grossi paradigmi che vengono messi in contraposizione sono il paradigma medico individuale e il paradigma sociale il paradigma medico si sofferma sulla concezione medica della disabilità vedendo quindi la disabilità come una menomazione e quindi riducendola solo a un problema, una vicenda personale, a una tragedia familiare questo presupposto naturalmente riduce tutta la questione alla disabilità cioè la persona è ridotta alla sua disabilità il paradigma sociale invece vede la problematica come un problema sociale cioè non è la persona che è disabile perché ha una menomazione fisica cioè non è legata alla sua condizione ma la disabilità dipende dalle istituzioni che falliscono cioè dal fatto che la società non sa proporre delle alternative alla cosiddetta normalità naturalmente il concetto di disabilità come ho detto più volte dipende naturalmente dall'epoca in cui ci troviamo e dalla condizione culturale in cui ci troviamo nelle varie epoche storiche, nell'antichità per esempio la disabilità era un difetto di natura quindi partendo dalla perfezione della natura degli dèi queste persone menomate avevano quindi un problema avevano avuto un problema con la natura del divino nel medioevo poi era vista come un oggetto di pietà o di carità o addirittura che doveva essere eliminato poi andando avanti col cristianesimo si è parlato anche di colpa e quindi di pulire la colpa, lavare la colpa per poter essere purificati, per poter essere riabilitati il mondo moderno razionale ci porta sempre di più a credere nell'infallibilità delle scienze quindi nel dare alla medicina il ruolo più importante e nel mondo razionale siamo portati a definire un normale cioè dobbiamo dare delle definizioni quindi che cosa è normale e cosa quindi non essendo normale è diverso di conseguenza appunto tutto quello che non è normale lo diamo alla medicina in modo o alla scienza in modo che possa normalizzarlo naturalmente questo ha portato a delle critiche questi paradigmi hanno portato a delle critiche che sono nate appunto negli anni 60 fino agli anni 60-70 nel Regno Unito col British Social Model che ha portato quindi questo primo modello sociale attraverso delle rivendicazioni di organizzazioni di disabili che appunto volevano rivendicare i propri diritti semplicemente hanno portato quindi a questi studi di critica su questi modelli e sull'idea di appunto normalizzazione i modelli sociali poi che sono nati ne ho veramente letti tantissimo alcuni molto interessanti tutti molto interessanti devo dire e molto particolari alcuni molto politicizzati per cui per esempio il modello che dà tutta la colpa diciamo alla rivoluzione moderna al fatto che le industrie sempre più meccanizzate che richiedono sempre più alte performance limitano sempre di più le persone che hanno delle disabilità questi modelli alcuni appunto hanno dei limiti legati al fatto che la disabilità non è solo non è data solo da una condizione fisica pura quindi uno può avere tutte le abilità diciamo fisiche ma avere una condizione che non gli permette di essere performante come tutti gli altri quindi diciamo che gli studi i disability studies vanno più a concentrare la loro attenzione su una critica al modello di vedere la disabilità cioè noi partiamo dal modello che è quello imposto da chi è normale che decide che cosa è normale che cosa non è normale invece questi studi critici che ripeto nascono come studi accademici e lo sono degli studi accademici cominciano ad avere dei riscontri anche nella realtà non solo attraverso alcuni industriali e alcune associazioni che si mettono in campo su queste argomentazioni per cercare di dare voce appunto anche ai disabili alle famiglie dei disabili e quindi a un incontro sempre più interessante e specifico tra mondo medico appunto e mondo della disabilità quindi queste rivendicazioni diciamo questi modelli nascono più dall'idea non tanto che la disabilità venga in qualche modo appianata ma anche ai disabili vengano riconosciuti gli stessi diritti delle persone normali dove appunto la definizione normale è data dalla maggioranza che delinea il metodo di definizione ok spero di essermi spiegata siete appassionati di enogastronomia? vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo interviste e storie sui luoghi le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio senza barcode a questo punto diventa necessario quindi dare delle definizioni e nel 1976 viene fatto questo documento intitolato Fundamental Principles of Disabilities in Inghilterra appunto dove si afferma che la disabilità è causato quindi da condizioni sociali quindi dal fatto non tanto che la persona non è in grado o non ha le condizioni per fare delle cose ma sul fatto che la società imponga a quelli che non sono abili la denominazione di disabili a questa classificazione viene poi affiancata nel 1980 quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il famoso documento ICDH quella che appunto dà le definizioni le definizioni principali sono tre la menomazione che è l'esteriorizzazione della condizione patologica cioè se mi manca un braccio la mia condizione è che mi manca un braccio punto questo non dipende dalla società ma è una condizione in cui mi trovo il concetto di disabilità che viene definito quindi come una carenza di capacità a svolgere un determinato compito e l'handicap cioè quando l'individuo ha uno svantaggio che è difficile appianare da parte della società quindi lo schema è menomenazione disabilità handicap naturalmente i due documenti cozzavano tra di loro perché mentre un documento andava a rivendicare il fatto che un soggetto non deve essere identificato solo dalla sua disabilità ma in toto e quindi partendo da tantissimi punti di vista e soprattutto dal punto di vista sociale quindi che la società deve mettersi in discussione e deve cercare di capire che il modello che propone non è solo io sono normale tu non lo sei e quindi se ne occupa di te il medico ma da una visione un po' più globale l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è stata a guardare e pian pianino con calma nel 97 ha messo a punto una nuova versione che è appunto l'ICDH221 dove alla condizione diciamo alle tre definizioni che ho detto prima si vanno a considerare altri tre aspetti che sono il livello corporeo il livello personale e il livello sociale e quindi diciamo si va a vedere un po' tutto il contesto della persona si va a introdurre per la prima volta il concetto di salute cioè il concetto di benessere la persona che è disabile deve avere il benessere esattamente uguale a quello di una persona normale e il benessere è dato da tantissimi fattori dove l'ambiente medico il contesto medico non c'entra niente cioè si cerca di scardinare un po' l'egemonia medica dal discorso della disabilità perché la salute e il benessere di una persona tantissime volte non dipende assolutamente da una definizione medica e da una diagnosi medica si capisce quindi non so se state capendo che il concetto di disabilità è un concetto abbastanza controverso e la sua definizione cambia in base al metodo col quale noi decidiamo di guardarla e dalla prospettiva con la quale noi la guardiamo da diversi punti di vista perché se partiamo anche da un punto di vista diciamo più come si suol dire inclusivo anche qua si tende sempre troppo a normalizzare cioè l'inclusione intende una normalizzazione e capite bene che per esempio per una persona non vedente non vedente dalla nascita cosa vuol dire normalizzare volebbe dire farla vedere e allora non sarà mai normalizzata in questo caso allora la società dovrebbe cercare di permettere a questa persona di fare compiere i suoi atti quotidiani autonomamente quindi normalizzarla vuol dire compiere i suoi le sue attività autonomamente mantenendo inalterata la sua condizione perché la condizione è quella iniziale che dicevo se uno non ha un braccio se uno non è vedente quella è la condizione bisogna rendere accessibile e autonoma tutte le persone partendo dalla loro condizione in tutto questo contesto vedete bene che il tema della disabilità e della diversità acquista un valore e un peso molto diverso anche all'interno delle discussioni e all'interno anche politico del welfare di quello che si suol dire il terzo settore tutto va a configurarsi dentro un modello molto più vasto e ricco dove può essere e deve essere vista la disabilità così nel 2006 le Nazioni Unite promuovono questo convegno sui diritti delle persone con disabilità lo scopo e il sottotitolo diciamo di questo convegno era promuovere proteggere e assicurare il pieno e giusto godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità e promuovere il rispetto della dignità quindi già nel 2006 le Nazioni Unite hanno sentito che questo problema nato appunto in Inghilterra non era solo dell'Inghilterra ma era di tutti i paesi quindi tutte le associazioni e le organizzazioni che avevano sempre avuto una parte diciamo una nicchietta loro avevano un ruolo fondamentale prima di tutto perché bisognava dare valore alle persone con disabilità come ho detto più volte per dargli una risonanza e un'importanza che come risorsa umana e come una risorsa che deve essere spesa nella vita di tutti i giorni non normalizzandole nel senso comune cioè dall'idea che la persona razionale cioè la persona che fa parte della maggioranza normale decida che cos'è diverso ma rendendoli autonomi e rendendoli quindi una forza produttiva una forza sociale una forza sportiva come abbiamo visto in questi anni pian pianino migliorare questa visione e quindi diventare un tessuto importante della società per cui io vi vi dico andate a leggere i vari disability studies che trovate su google sul sito di senza barcode poi vi ho dato proprio nell'articolo le indicazioni dei siti o dei libri da acquistare non perché a me venga in tasca niente ma perché gli ho letti sono molto riassuntivi secondo me riassuntivi ed esplicativi più che altro di che cosa sono i disability studies a che punto sono e qual è il loro ruolo in questa società e poi se avete delle domande o volete approfondire il discorso sulla sulla critica dei disability studies all'interno dell'autismo mandatemi pure le vostre considerazioni le vostre domande al mio indirizzo manu chiocciola senza barcode punto it disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di senza barcode consigli strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile a cura di a cura di